E bentornati in diretta a Uno Mattina Estate, io sono in compagnia del tenente colonnello della lunatica militare Guido Guidi, ultimo weekend di agosto, che ci aspettiamo? Beh, finisce l'estate meteorologica, non quella astronomica che finirà con l'equinozio intorno al 20-21 di settembre, quindi potremo ancora dire per un po' che siamo in estate, però se e quando ci troveremo a fare i conti di questa stagione estiva la dovremo fermare al 31 agosto, quindi proprio a questo weekend, che peraltro, come dire, le aspettative non sono proprio il massimo, perché già da dopo ferragosto la circolazione atmosferica è cambiata, è vero, ci sono anche delle belle giornate, c'è occasione per il sole, però l'aria è divenuta più instabile e in questo weekend passerà anche una debole perturbazione, tra l'altro si vede anche, eccola qua, sulle immagini da satellite, la si vede attraverso dell'Europa centrale, così come c'è ancora un po' di bassa pressione sul settore ionico. Sono nubi queste che in realtà, in termini assoluti, non darebbero luogo a grandi eventi di pioggia, però l'energia che arriva dal sole, siamo ancora in estate, l'abbiamo appena detto, è anche abbastanza abbondante, quindi sono temporali. Quindi ci aspettiamo questi temporali che abbiamo visto nei giorni scorsi? Probabilmente non con quella intensità, perché il sistema che arriva è diverso, ha caratteristiche diverse, arriva in un contesto che ha già visto un raffrescamento, quindi il contrasto è sicuramente meno incisivo, però domani è abbastanza evidente come il rischio di pioggia sia piuttosto diffuso sul paese, più al nord e sulle montagne del centro-sud, piuttosto che sulle coste, e per domenica ancora sul nord-est, meglio invece sul nord-ovest, e ancora rischio su tutto l'appennino, non so se riusciremo a vederla, però anche domenica vedrà un rischio di temporali, eccola qua, abbastanza diffuso lungo tutte le nostre zone collinarie montuose e poi sul nord-est, poi la situazione tenderà un pochino a migliorare ad inizio settimana, ma no, dicolo, ci occuperemo a tempo debito, un po' più fresco da domani. Esatto, le ondate di calore sono terminate? Beh sì, diciamo con l'intensità e la durata che abbiamo conosciuto nel mese di luglio e nel mese di giugno, sicuramente sì, ma d'altronde non c'è più proprio l'energia perché possa accadere quello, però certo arriveranno anche altre belle giornate, non è finita così. Non è finita così e c'è ancora una coda di estate che ci aspetta? Ci sarà, tutti gli anni perché no? Perché molti sono ancora in vacanza. Ciao.